Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati. Questo è sempre a Tu per Tu con il vostro sportello, sempre aperto, tutte le sere invitiamo un protagonista diverso per parlare di temi, di attualità e per approfondire questi temi perché sono di pubblico interesse, di interesse dei nostri telespettatori. E allora come lo è l'argomento di questa sera? Pochi lo sono perché parliamo di casa e la casa è un argomento molto sentito perché è un argomento sul quale c'è una grande crisi da affrontare. Noi abbiamo invitato il segretario regionale di Sunia e il nostro Pierluigi Albetti. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, grazie ancora dell'invito che è sempre piacevole anche perché ci sono parecchie comunicazioni fresche di giornata quasi anche. Oltre al fatto che sono riduce dal congresso nazionale dove si è parlato per quattro giorni di casa ed è stato tracciato il quadro drammatico che stiamo vivendo in Italia perché i governi non si sono mai decisi a affrontare il problema. Questo governo ha avuto un brutto esordio perché non ha più finanziato il fondo sostegno affitti. Andiamo con ordine, caro Pierluigi. Partiamo proprio da qui, da questi quattro giorni di congresso che avete fatto nel quale si è parlato di casa e non solo di alloggio pubblico ma anche di come il mercato privato sia davvero in balia di se stesso e non c'è a quanto pare alcun tipo di tutela per gli utenti. Allora spiegaci un po' la situazione che tu hai definito drammatica. Drammatica sicuramente. Siamo in braghe di tela praticamente perché il fondo sostegno affitti non è stato finanziato per neanche un euro quest'anno. Quindi quel poco che c'era, che ho visto oggi i dati di Pavia, se andava bene, se eri tra i fortunati che venivano estratti a sorte quasi per avere un contributo, prendevi 1.400 euro che sono una cosa ridicola. Sentivo che in Portogallo adesso propongono tantissime cose per la casa, 200 euro al mese per gli indigenti. Qui 200 euro all'anno forse arrivano, cioè siamo davvero ridotti malissimo. Adesso non arriva più neanche questo perché il fondo non è stato rinnovato. Non c'è più niente, siamo a zero oggi come oggi. La prima brutta notizia è questa, per tutti coloro che magari così pensavano di accedere a questo fondo perché magari lo avevano già fatto in passato, perché magari si trovano in condizioni di necessità, ecco il fondo non c'è. Ci può essere qualcosa, sono gli avanzi degli anni precedenti. Se qualcosa arriva è perché hanno avanzato nel cassetto qualcosa, perché non riescono a spenderli. Perché il proprietario deve consentire a non sfrattare l'inquilino per avere questi 1.500 euro o 2.000 euro massimo, una tanto. Nessuno accetta questa cosa perché se l'inquilino ha già in morosità di 4-5.000 euro, il proprietario non ne può più di mandarlo fuori casa. E quindi non hanno senso questi contributi. Ma avrebbe senso una politica vera, seria sulla casa. Noi abbiamo lanciato l'idea, l'ipotesi appoggiata da tutte le associazioni, tipo l'associazione dei comuni, tipo l'associazione che raggruppa tutte le aler italiane e gli ACP, di un'avvertenza urbana e un piano per la casa che va fatto insieme al discorso energetico. Tutto si lega insieme perché una cosa da sola non ha senso. Bisogna affrontare davvero una volta per tutte il problema casa, a tutto tondo, gli affitti, i contratti di locazione, gli Airbnb che adesso stanno portando via un sacco di alloggi al mercato ordinario perché in una settimana un proprietario guadagna quello che se affittasse una famiglia guadagna in tre mesi. Quindi c'è un mercato selvaggio che sta venendo avanti, c'è più domanda che offerta, di conseguenza l'offerta continua a salire. I prezzi salgono e le persone sappiamo benissimo che sono in difficoltà assoluta e sempre più acuta. Allora questa emergenza c'è, voi avete fatto delle proposte e adesso bisogna vedere se queste proposte interamente o almeno in parte verranno prese in considerazione. Sì, è un discorso lungo, è un discorso che si gettano le basi oggi per portare a casa dei risultati forse a fine anno. Soffermiamoci sulla fotografia che hai fatto che riguarda il mercato, quello libero degli affitti, e quindi interessa i privati. Chiunque si ha la ricerca di una casa se ne sta rendendo conto. Quasi, vorrei dire quasi un'assurdità, quasi più facile comprarla perché il mercato in quel senso immobiliare è abbastanza basso, mentre il mercato degli affitti, come dicevi tu, è selvaggio perché c'è tanta richiesta. Prima di tutto, tu che hai un punto di vista privilegiato, spiegaci perché c'è così tanta richiesta sulle case in affitto. Perché molti proprietari non affittano più in conseguenza alle poche garanzie che hanno di pagamento del canone da parte degli inquilini che sono sempre più in difficoltà, è un po' un cerchio chiuso ormai. Cioè la crisi ha portato anche questo? La crisi, il Covid, quello che c'è. E poi perché c'è questo mercato parallelo degli studenti, per esempio, a Pavia, per cui da studente 300 euro una cameretta, la trovi magari, però se sono tre camere il proprietario preferisce affittare 900 euro piuttosto che affittare una famiglia a 500, quindi quegli alloggi spariscono dal mercato delle locazioni. Molti alloggi vengono lasciati inutilizzati per paura appunto dell'amorosità, non a caso molte richieste che provengono sono quelle di rimettere nel mercato delle locazioni tutti questi alloggi sfitti, facendo un censimento, anche facendo proprio una rilevazione a tappeto e poi decidendo cosa fare mettendosi intorno al tavolo. Ci vuole molta volontà politica per affrontare però tutti questi temi in modo tecnico e in modo decisivo. Allora ti voglio fare una prima domanda perché noi sappiamo, è un argomento che sta molto a cuore ai nostri telespettatori perché molto spesso ci segnalano, anzi vi lascio il numero anche per questa sera per telefonare in diretta 0381 09 14 51 oppure se volete mandare un whatsapp 361 188 002. Ci segnalano appunto la difficoltà a recuperare, ieri sera c'era qui per esempio l'amministratore di condominio, con lui si parla dei problemi di morosità, dei problemi di morosità che riguardano e le rate del condominio e riguardano anche la proprietà che spesso non riesce a recuperare i canoni di affitto. Questa è una situazione certa, conseguenza di tutto quello che abbiamo detto del covid, della crisi, della perdita del lavoro, delle bollette sempre più alte. Che cosa si potrebbe fare a livello di tutela dei privati cittadini per sbloccare un po' questa situazione in cui uno piuttosto la casa la tiene vuota perché gli costa meno che andare a incappare magari nell'inquilino sbagliato. Anche perché non sempre questi proprietari sono poi persone con dei redditi capienti che riescano ad assorbire questa crisi che dovrebbe essere gestita dallo Stato, non dai pubblici cittadini. Questo l'abbiamo detto più volte. Detto bene. I proprietari non sono dei diavoli, i proprietari sono persone normalissime che tentano di affittare a un prezzo accettabile l'appartamento con delle garanzie. Se l'Italia è diventato un paese dove ci sono 7 milioni di poveri che quindi non possono sostenere un canno di locazione qualcuno avrà anche questa colpa. Poi una casa dovrebbe rientrare in un pacchetto di misure fiscali che eliminano l'agevolazione ai contratti ai canoni liberi e confluiscano tutte le risorse sui canoni concordati abbassando le aliquote di IRPEF dal 21 al 10%. Cominciamo a ragionare le detrazioni per gli inquilini. Gli inquilini dovrebbero poter applicare delle detrazioni o delle deduzioni in fase di modello 730 dichiarazione dei redditi non c'è niente. Se una di queste leve almeno fosse stata azionata invece ne è uno, ne è l'altro, ne è l'altro, ne è l'altro. Quindi è una situazione disastrosa. Tu mi confermi che un inquilino non può scaricare dal 730 ai canoni? 300 euro all'anno. Fa ridere insomma. Mentre noi sappiamo che chi, e ho bisogno che tu me lo confermi, chi affitta una casa anche se materialmente non prende i canoni di affitto finché non va la procedura di sfratto deve pagare lo stesso l'età. Esattamente. È un'assurdità. Giustamente è un'assurdità. È però un quadro che fa acqua da tutte le parti questo qui. Per cui ci vorrebbero dei finanziamenti, dei fondi. Ci siamo mangiati 200 miliardi di PNRR, ci siamo mangiati i famosi 70 più altri di super bonus 110%. Li abbiamo mutati via questi miliardi che potevano risolvere la situazione della casa. Doveva esserci un intervento pubblico che gestisce, però il pubblico è sfasciato in Italia, quindi gli apparati pubblici non sono in grado di reggere un impatto di progetti, di gestione, per cui si è puntato sul privato. Il privato ha fatto disastri. Poi in Italia sembra che ci si attrezzi subito per raggirare lo Stato e fare i propri affari. C'è stata tanta polemica sul 110, sul fatto che il governo lo voglia eliminare, però andando un attimino oggi sui giornali a leggere i numeri, si vede che lì sono stati sprecati davvero tanti miliardi. Per mettere un po' a posto il 3% degli immobili. Niente, è una barca di quattrini pubblici che li abbiamo a debito. Ognuno di noi ci troverà questo debito spaventoso e non è ancora finita. Perché noi siamo furbi, siamo bravi in questo, no? Crediamo di esserlo. Noi, fatta la legge, vogliamo subito, insomma, come un vestitino cucircela addosso e cercare di ottenere. Pochi ne hanno approfittato e tanti adesso sono rimasti impantanati in un sistema da cui non si sa uscirne. Ma ogni, sentivo ieri una trasmissione, ogni 45 giorni veniva messo un nuovo provvedimento che modificava il quadro del superbonus 110%. Si è creato un caos oltre agli aumenti dei materiali, oltre al fatto che le cose costavano il 30-40% in più di quello che costavano prima. Beh, certo, erano gratis. Tanto dice, tanto paga lo Stato. Lo Stato siamo noi, però. Certo, noi non ci rendiamo mai conto di questa cosa. E poi hai parlato del fenomeno degli Airbnb. Ma è un fenomeno che riguarda solo le grandi città o è diffuso anche in provincia? Si sta allargando un pochino lentamente, sta assumendo una certa rilevanza in ogni località. Poi dietro si celano magari degli affitti, non so, fuori legge anche, perché è uno strumento che dovrebbe essere riservato solo a chi ha uno, due, tre alloggi. Non deve diventare un'iniziativa imprenditoriale per far soldi. È nata con un certo spirito e adesso, anche in questo caso qui, c'è stata in salsa italiana l'aggiornamento del sistema. Tu vuoi dirmi che l'albergatore è un altro mestiere? Esatto, l'albergatore andrebbe anche tutelato perché è da lavorare, è un'attività imprenditoriale, quindi produce qualcosa. L'Airbnb così è una rendita di posizione un po' parassitaria, anche esagerata e porta via alloggi al mercato normale. Ovviamente affittarli a giorni o a settimane. A Milano, ma anche a Pavia comunque sta crescendo, se non si mette un freno, devono farlo i comuni, devono dire basta, regoliamo questa cosa, tu lo puoi fare, mettiamo in campo tutti gli alloggi, poi vediamo, tu ne hai dieci, no, due, tu ne hai uno, va bene, però così sta uscendo fuori controllo la situazione. Ma i comuni, barra il governo, potrebbero arrivare a un certo punto, passami il termine, a obbligare chi ha degli alloggi a metterli sul mercato? Beh, potrebbero, diciamo così, applicare una tassazione punitiva nei confronti di chi tiene l'alloggio sfitto per disincentivare, cioè raddoppiare l'Imu, che in questo modo qui si può arrivare. Requisire gli alloggi no, non ci siamo. Beh, per fortuna. Per carità, ci mancherebbe. In Portogallo il governo sta lanciando praticamente una grande campagna acquisti nei confronti dei proprietari che hanno gli alloggi sfitti per dire li prendiamo noi del governo oppure li prendiamo noi in affitto, poi li subaffittiamo agli inquilini che hanno bisogno, invece di costruire casi popolari si utilizza quelli che ci sono, gli alloggi che ci sono, non si consuma il suolo, sono pronti subito perché fare una casa popolare richiede 4-5 anni, quindi hai voglia, le persone sono già morte. E come fa il governo a sostenere sia l'affitto che deve pagare insomma al privato e poi sicuramente un canone agevolato che deve dare a queste persone? Ce la fanno in Portogallo che non sono la quinta potenza mondiale e quindi l'Italia, se volesse le potrebbe trovare queste risorse, però c'è un'indifferenza rispetto a questi, prima o poi adesso bisognerà affrontarle. Eppure in campagna elettorale casa, casa, casa veniva detta spesso. Tutti, tutti, tutti la casa, 500 mila alloggi, come se fossero noccioline, venivano promessi ogni giorno da tutti i partiti. Facciamo distinzione, adesso sinistra. Io ho fatto un incontro con la Moratti in campagna elettorale e dicevano, ma lei ha perfettamente ragione, lei ha tutte le ragioni del mondo, è giusto quello che dice, se verrò eletta farò tutto quello che bisogna fare per la casa. Non è stata eletta, vabbè. Eh, rimarremo col dubbio. Che forse l'avrebbe fatto, figuriamoci anche gli altri, ma anche Fontana stesso aveva scritto che è d'accordo sulle politiche abitative, che proponiamo che bisogna impegnarsi molto di più, la regione Lombardia farà, adesso li vediamo, insomma. Allora, c'è tanta gente che ha bisogno casa, c'è tanta gente che richiede gli alloggi pubblici, come siamo messi ad alloggi pubblici? Sì, qui c'è da ridere o da piangere, più da piangere, perché proprio oggi l'avviso dei servizi abitativi pubblici, le case popolari, adesso si chiamano così, hanno cambiato il nome, così si confondono anche un po' le idee. Il comune di Vigeva, in qualità di capofila dell'ambito della Lomellina, ha emesso l'avviso per partecipare al bando delle case popolari. Sembra una notiziona da fare i salti di gioia. Ci sono due appartamenti, e uno a Mede, tre in tutto. Cioè per tre appartamenti abbiamo fatto il bando? Si mette in moto questa macchina infernale, che richiede ovviamente lavoro da parte di tanti soggetti, di tante persone. Si chiude il 14 aprile del 2023, però mi è stato detto che questi bandi qui adesso vengono fatti con uno spirito che, se nel frattempo, prima del 14 aprile del 2023, si liberassero degli altri alloggi, andrebbero in coda questi. Possono essere? Quindi, ecco, il tetto è sempre quello dei 16 mila euro, che non bisogna superare. La domanda si presenta solo in modalità telematica, quindi chi non è capace si deve arrangiare facendosi assistere da un amico bravo a usare il computer, oppure hanno scritto su questo bando, che ci si può rivolgere ai sindacati inquilini. Non è vero, non è vero. Quindi devono venire da te. Dovrebbero venire da me, ma io non ci sono mai, quindi trovano un ufficio chiuso, perché non è stata fatta una convenzione con il sindacato. Io non farò mai una domanda, però c'è qualcuno all'interno della CGL che è stato formato per fare le domande, però non essendo stati preavvisati non possiamo mettere in campo nessun servizio. Ci dispiace sinceramente per i cittadini che si troveranno con il naso per aria a guardare le stelle, però nel Sunia, nel Sicet, loro hanno preso tale e quale il protocollo di intesa che abbiamo fatto con Regione Lombardia, dove è vero che noi possiamo essere lì a presentare domanda per il cittadino, però bisogna chiarirsele prima queste cose qui. Se non ci dicono niente, ci troviamo dall'oggi al domani, come una doccia fredda, questa cosa non esiste proprio. Ma scusami, caro Perluigi, forse te l'avevo già chiesto, ma è il caso di ribadire questo concetto. Ci sono delle graduatorie già aperte, non si potrebbe prendere quelle belle graduatorie e andare a vedere i primi tre classificati e se vogliono la casa è bene, se no andiamo avanti. Il sistema è questo in realtà. La graduatoria è stata percorsa fino ad oggi, ora viene in sostanza congelata in attesa che si ricostituisca una nuova graduatoria. Il problema è che non ci sono case, il problema è che quelle poche, anche che ci sono, misteriosamente vengono lasciate sfitte. Noi siamo rimasti un po' tagliati fuori adesso dal sistema dell'edilizia pubblica. Tu stai parlando di alloggi comunali o stai parlando di alloggi dell'Alea? Tutte e due, non c'è differenza. Una di quelle cose antipatiche che sono venute avanti è stata quella di escludere le organizzazioni sindacali dal partecipare a quei pochi momenti di condivisione e di concertazione delle cose che si fanno. Per cui, sintetizzando, non disturbare il manovratore. Però poi le conseguenze si vedono. Le conseguenze sono veramente devastanti, tragiche, perché poi le persone si rivolgono a noi perché se telefonano all'Aler o al comune difficilmente rispondono. Io stesso ho provato a telefonare qualche volta al comune, all'ufficio casa, mi è venuto il formicolio al braccio perché poi non risponde nessuno. Anche questi servizi rivolte al cittadino che sono sempre più scadenti, i call center, sì, qualche cosa magari fanno, però poi alla fine non producono risultati. La domanda, per dare delle informazioni precise ai nostri telespedatori, la domanda che tu dici telematica, si fa sul sito del comune? Si fa, no, si fa collegandosi al sito della regione Lombardia. In teoria ci sono, non so, 10 o 12 quadri da compilare, però bisogna ovviamente… Cioè praticamente è già una prima selezione. Esatto, esatto, diventa un filtro per le persone che non sono molto abili a muoversi o che proprio non ce la fanno o che a quel punto lì rinunciano. Per cui poi dicono, ecco, lo vedete, i sindacati dicono che mancano 60 mila casi in Lombardia, ma non è vero, ci fanno 10 mila domande perché gli altri 50 mila non sono rinunciato a far domande. Per Luigi, quella classifica graduatoria, scusami, non classifica, che tu dici che è stata congelata, non si potrebbe fare come si fa per tante altre cose, per esempio, ti faccio l'esempio dell'assegno unico per i figli, no? Non si potrebbe solamente rinfrescare con i dati reddituali nuovi e non starli a rinunci? No, no, il dispositivo regionale prevede che invece a un nuovo bando bisogna presentare una nuova domanda. Cioè, in realtà è un po' macchinoso. Volutamente macchinoso o proprio i politici sono staccati dalla realtà, vivono in un altro mondo. Sicuramente loro la domanda dell'alloggio non l'hanno mai fatta. Oppure dicono, vabbè, così disincentiviamo un po' di persone a continuare a presentare domande. E poi il fatto, cioè, poi una persona quando magari va a leggere che gli alloggi sono tre, già si disincentiva. Sì, ma sei scoraggiata in partenza a presentare domande. Dice, è davvero come vincere una lotteria a quel punto lì, poi. Nella nostra provincia, e in provincia di Milano, la situazione alloggi occupati abusivamente, com'è? È qualcosa che è ancora sotto controllo o ci sono situazioni come in altre parti d'Italia? Un conto è Milano, l'Inter al milanese, un conto è tutto il resto della Lombardia, la provincia, dove tranne città importanti come Brescia, Bergamo, che magari hanno un numero consistente di abitanti, possono avere dei fenomeni. Nelle nostre periferie, come la provincia di Pavia, Cremona, Mantua, Varese, anche stessa, non ci sono questi fenomeni in dimensione allarmante, però ci sono. Vengono magari tante volte taciuti, gli inquilini non denunciano magari l'occupante abusivo perché hanno anche paura di farlo. I comuni, quando li vengono coinvolti, cadono dalle nuvole, si girano dall'altra parte, quindi davvero anche questa è una partita che andrebbe giocata con più serietà, non solo mostrando i muscoli quando non serve a nulla, cioè bisogna lavorare seriamente giorno dopo giorno andando a vedere le cose, invece qui non c'è più nessuno che va a vedere, cioè anche i quartieri popolari sono un po' abbandonati, lo diciamo da sempre e non è cambiato ancora nulla. Allora noi andiamo in pubblicità, poi torniamo in diretta, ripartiamo proprio da qui. Eccoci qua, torniamo in diretta, lo facciamo con Pierluigi Albetti, segretario regionale di Sunia, il sindacato che si occupa degli alloggi pubblici e devo dire però che di ritorno da questo congresso, quattro giorni di congresso, avete risolto niente. Tutto. Avete parlato di tutto, beh in realtà il congresso non si può risolvere, però sicuramente si possono fare. Tirato fuori tutti i problemi e dato anche delle ricette. Ecco, perché abbiamo capito che le problematiche ormai non riguardano solamente gli alloggi pubblici, ma c'è un grande e serio problema che riguarda anche i privati. Intanto che leggevi tutti i tuoi dati, qui caro mio sono arrivati un po' di messaggi, sai che cosa riguardano? Perché tu prima l'hai accennato, però c'è un grande problema, ma anche Pavia, città universitaria, di alloggi per gli studenti. E qua c'è una mamma che dice magari 300 euro al mese, perché sembra che ormai sia diventato elitario anche poter studiare. Ed è un problema che in realtà, poi sono andata un po' a leggermelo, non riguarda solamente Pavia, ma tutte le città universitarie. Pavia è messa meglio delle altre, in proporzione alla maggior dotazione di alloggi in percentuale rispetto al numero di studenti. Soprattutto abbiamo fatto parecchio lavoro insieme all'UDU, che è l'Unione degli Universitari, e abbiamo un po' fotografato la situazione. Tutto sommato, un questionario che è stato distribuito a 1200 universitari hanno risposto, tutto sommato Pavia viene ancora ritenuta una città dove si può star meglio che altrove, e dove i prezzi non sono così esagerati, dove c'è una certa soddisfazione per il tipo di alloggio. Io sono sempre un po' scettico rispetto alla qualità, perché poi bisogna fare una media, certamente. Ci sono dei proprietari che affittano alloggi indecenti, ci sono dei proprietari corretti che affittano la casa che magari era della figlia, che è andata a lavorare in America, e adesso il suo appartamento viene messo in locazione. 300 euro al mese, però io ne vedo tantissimi, dei contratti per studenti, perché c'è l'obbligo dell'attestazione del contratto concordato, quello per studenti, oltre anni più due, quindi passano tantissimi da me. E devo dire che 300 euro al mese è un canone frequente, anche 250. Se poi vuoi un appartamento è tutto per te, quello è un valore di mercato, che non fa differenza se sei studente o se sei una famiglia. Se sei benestante puoi anche permetterti da solo di pagare 500 euro al mese. Allora, invece c'è un'altra testimonianza di Claudio, che ha trovato lavoro a Milano, e ha trovato un bilocale per lui e la compagna, il prezzo minore, 1500 euro. Milano è una bolla immobiliare spaventosa, non sanno più da che parte voltarsi. E lui dice, io lavoro sui turni, devo abitare per forza a Milano, non potrai fare in maniera diversa, praticamente con lo stipendio dovrai pagare. Non è più una città per inquilini, Milano è una città per folli, per ricchi, straricchi. Il comune l'ha già capita, sta mettendo in campo delle iniziative di recupero urbano, rigenerazione urbana, pensando di fare abitazioni, non tutte, una parte delle abitazioni, che vadano poi sui 600, 500, 600 euro mensili. Però prima di arrivarci, il processo di inizio è lungo, quindi bisognava partire prima. Ma tu me li confermi questi prezzi di locale che ha detto il nostro telespettatore? Assolutamente, ci sono un sacco di persone che stanno fuggendo da Milano, gli studenti non parliamone, ma perché proprio ci sono queste dinamiche qui, dell'Airbnb, dell'edilizia di lusso. Poi lavori, se hanno un appartamento vicino alla metropolitana, guai, perché comunque i servizi li abbiamo pagati noi, collettività. Costruire una metropolitana costa un occhio della testa. I costruttori che vanno lì a edificare, poi si riempiono le tasche. Beneficiano, ovviamente. Beneficiano di tutto quello che è stato fatto. È proprio l'impostazione di fondo che è sbagliata. Non ci sono fatti dei ragionamenti elementari, che qualsiasi urbanista, qualsiasi tecnico, politico, amministratore avrebbe dovuto fare. Invece all'italiana proprio, ci lasciano andare le cose, poi recuperarle è faticosissimo e magari non si riesce neanche a farlo in modo accettabile, in modo soddisfacente. Stavo pensando, mentre facevi questo ragionamento, pensavo che alcune civiltà della storia hanno edificato molto meglio che noi nel 2020, in maniera molto più sociale, ma arriviamo anche magari a prima di questo. Sì, vogliamo fare una considerazione di natura quasi filosofica. Mamma mia! Potremmo dirlo, però l'Italia è un fenomeno veramente a sé stante. Gli italiani andrebbero tutti psicanalizzati per capire veramente chi siamo, perché si è costruito peggio che in tutto il resto d'Europa, si è distrutto proprio un tessuto storico. Io vedo delle cose, il congresso era a Pesaro, il centro storico è un gioiello, con tutte le edilizie tradizionali, case di una certa misura, a misura d'uomo. Fuori ci sono dei mostri edilizi che fanno spaventosi. Perché ce ne siamo fregati? Bastava costruire, e ancora oggi c'è chi lo fa. Basta costruire delle cose oscene senza cultura. A parte che questo qui è un discorso di lusso, la cultura, non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo, il piano fanfani, però, dando delle risposte ai bisogni concreti, reali delle persone, ai bisogni terra a terra, da una casa con il gabinetto di un metro per uno, però costruiva bene. C'era un'idea di città che adesso non c'è più, è sparita. Quindi oltre a non avere gli appartamenti, quello che si fa è orribile, brutto, costa un occhio della testa. Cosa abbiamo combinato? Abbiamo rovinato questo paese. Però, come dici tu, non è il momento di fare della filosofia. Siamo veramente in emergenza. Questo lo vogliamo ancora sottolineare, perché è fondamentale. Ci sono parecchie persone che hanno il grave, grande problema. Di arrivare a fine mese. O mangi o paghi l'affitto, o paghi le bollette. Allora, caro Pierluigi, dobbiamo dare però ancora delle notizie di servizio, perché ci sono delle comunicazioni importanti, per chi ha già un alloggio pubblico, quindi è già inquilino. Esatto. In questi giorni l'Ale ha fatto partire la campagna che è biennale, in questo caso qui sono passati un po' più di due anni, per l'anagrafe utenza, cioè la raccolta dati reddituali di tutte le famiglie che abitano in un alloggio pubblico, in modo che si possano fare gli aggiornamenti del canone, o non farli, o lasciarli inalterati se non è cambiato niente. C'è una novità, innanzitutto bisogna rispondere entro il 30 aprile, quindi non bisogna lanciarsi a capofitto, si può fare anche con calma la cosa. E c'è una novità che è quella dell'ISE, che non è più da legare alla risposta che deve essere firmata, però questo modulo che tutti gli inquilini si sono trovati nella cassetta della posta qualche giorno fa. Ma l'ISE verrà vista dall'Aler attraverso il suo sistema di collegamento con la banca dati IMSS, basta che però l'inquilino, naturalmente non è che a questo punto non lo fa più l'ISE, la deve fare l'ISE, ma non deve consegnarla all'Aler, per evitare montagne di carta che effettivamente li stavano sommergendo. Quindi l'ISE è obbligatorio, l'ISE è in corso di validità nel 2022, però non va prodotta, si tiene in casa e sta lì in un cassetto e si usa per altre cose, perché ogni prestazione agevolata richiede l'ISE per figli o prestazioni mediche e così via. L'unica cosa che andrebbe consegnata è la certificazione, attraverso un estratto conto dell'INPS, del reddito di cittadinanza, perché se si è percepito un reddito di cittadinanza, qualsiasi sia l'importo, poco o tanto, quello va consegnato e l'unico modo di verificare quanto uno ha incassato quell'anno lì, che sarebbe il 2021, è chiedere un estratto conto all'INPS. Anche qui bisognerà rivolgersi all'INPS con tutto il problema che hanno loro di rispondere, di code, di intasamento degli sportelli, però è inevitabile che vada fatto. Anche la pensione di invalidità va allegata alla risposta al modulo di anagrafe utenza che hanno spedito a casa di tutti. Il certificato di invalidità, se c'è un'invalidità in casa, anche se c'è da dieci anni, è meglio ripresentarla. Perché ci sono anche i miracoli, voglio dire. Qualcuno potrebbe vederci prima, o se gli è ricresciuto qualcosa. Allora Pierluigi, ricapitolando, Ise, fare l'Ise, andare al CAF, fare l'Ise, ma non presentarlo, lo pescano direttamente dall'INPS. Proprio così, esatto. Ok, questo stiamo parlando per gli inquilini Aller. Mentre dall'INPS, perché era troppo facile, non prendono il reddito di cittadinanza. Quello lo dobbiamo fornire. Sì, dall'INPS bisogna rivolgersi, chiedendo espressamente di farsi rilasciare. Anche in questo caso non lo potevano dare direttamente. Un estratto conto. E poi il certificato di, se nel caso ci fosse... Pensione di accompagnamento, pensione di invalidità, tutte queste cose, queste pensioni articolari. Va bene, e questa è un'informazione di servizio. Ne abbiamo altre da dare? No, diciamo che questo è proprio una cosa di questi giorni. Questo cosa serve, consegnare tutti questi dati? Per ricalcolare i canoni? Esatto, perché la legge regionale lo prevede, che ogni due anni venga verificato tutto il patrimonio, compreso le giacenze bancarie, che possono influire, un'eredità, una liquidazione. Anche queste giacenze bancarie che vanno a incidere comunque sul... Sì, vabbè, ma tutto questo poi va nell'Ise. Sulla determinazione del canone. Ti volevo segnalare una cosa che ci segnalano però i nostri telespettatori, che per fare l'Ise, se ne parla a maggio, i Caffman corrispondono, perché ci sono delle code allucinanti per fare l'Ise. Perché adesso ormai in questo paese non ti muovi se non c'è l'Ise. Questo sì. Se vuoi prendere l'assegno unico per i figli, devi far l'Ise. la retta dell'asilo, la mensa. È indispensabile un documento come la carta di identità. È diventata una fotografia. Sì, solo che non è di così. Però io so che le prenotazioni vanno da 15-20 giorni. Ma ci segnalano questo. Dipende dai Caff, probabilmente anche. Non tutti sono omogenei. No, perché se questo paese qua è diventato, l'altro giorno con un altro ospite parlavamo delle code per il passaporto, che anche lì sono diventate di mesi e mesi, va bene. Queste sono sempre tutte conseguenze della crisi, della poco personale. Manca personale dappertutto. Mancano le vigili del fuoco, mancano in comune, mancano all'Aller, mancano veramente in regione. Ovunque. Manca sulle strade, manca il personale che ripari le buche. Ci sono delle buche impressionanti. A proposito di buche, caro mio, pensiamo alle buche degli alloggi pubblici. Tu sei sempre pieno di segnalazioni da parte dell'utenza che queste case, anche coloro che pagano regolarmente l'affitto, non hanno manutenzione. Sono disastrate, perché sono case vecchie, costruite in economia, di conseguenza ti salta l'impianto idrico. Sei fortunato se hai i quattrini per riparartelo, se no non te lo riparano. Ti lasciano lì senza acqua, piuttosto. Siamo a questo punto. Non c'è più religione, davvero. Si è persa qualsiasi decenza. Se tu chiami, quando succede un problema del genere, chi c'è? Un tecnico dell'Aller che bisogna chiamare, che verrà a verificare? Chiami il call center. Diciamo che se non è esploso un tubo che sta allagando il quartiere, difficilmente li vedi. Adesso è una battuta. Però davvero è capitato, anche in casa del comune. In casa del comune forse è ancora peggio, perché il comune destina ancora meno risorse che Aller. Aller bene o male ha un giro economico che gli consente di staccare ogni tanto qualche risorsa per le manutenzioni urgenti, perché le manutenzioni ordinarie non vengono eseguite. Gli seramenti, siamo ancora fermi al punto che se ti cade il seramento lo devi cambiare tu, se no stai lì senza seramento. È come in Ucraina, metti un po' di cero sulla finestra col telaio di legno, perché loro non te lo cambiano. Siamo alla follia. Siamo alla follia. Sicuramente anche loro avranno le loro problematiche, perché immagino che come il privato ha problemi di morosità, allo stesso modo anche l'Aller non credo che prenda tutti i suoi canoni tutti i mesi. No, certo. Subigevano in mente che potremmo stappare una voltiglia di spumante, perché in via Gramsci il cancello Carraio, dopo 7-8 anni, è stato riattivato con l'automatismo motorizzato. Dopo 7-8 anni? Sì, 7-8 anni forse, ma anche di più credo. Questo qui è stato un impegno della direzione generale nei confronti del sindacato, dopo mille discussioni, dice almeno questo qui date, ce l'ho accidente, perché lì c'è un problema di microcriminalità. Sì, diventa anche un problema di sicurezza, tenere il Carraio aperto. Questo l'hanno riattivato. Una cosa tra mille che non vanno è andata bene. Ecco, poi ricordiamolo, forse non ce n'è bisogno, però dove c'è degrado, c'è criminalità. purtroppo vanno di pari passo. Vanno insieme, si associano, certo. E quindi poca manutenzione, poco controllo, poca gestione, assenza, non farsi vedere, diventa terreno fertile per persone che di buono fanno poco. Poi subentra sfiducia nelle persone che chiamano, chiamano e non vedono mai nessun intervento reale, non cambia mai nulla. insomma, quindi alla fine dice, io cosa devo denunciare ancora? È previsto da parte del Comune, credo di no, ma di Aler, ci sono dei fondi per mettere a posto un po' di alloggi e renderli disponibili? Qualcosa c'è sempre, ci punterà ancora sull'automanutenzione andando avanti adesso, visto che le cose non stanno migliorando. Noi chiediamo che Regione Lombardia e il Governo si decidano a stanziare il 2% dei loro bilanci da destinare proprio alle case, case pubbliche, case comunali, social housing, diciamo in tutti i modi, che non sia il social housing che hanno fatto fino adesso, perché quella lì l'ha presa in giro, fanno solo case da vendere o da affittare a 600 euro al mese. E non va bene, ci vuole il social housing vero. Il social housing, come fanno in Europa, non come lo facciamo in Italia, ogni cosa. Allora Pierluigi, guarda per un attimo la telecamera perché pian piano ti sei... Mi sono girato di tendenza. Allora, almeno per i saluti finali, no? Noi ti ringraziamo, ti invitiamo a tornare sperando che tu abbia qualcosa di buono da raccontare l'ora stessa volta. A breve sarà difficile, però basta che si dia un segnale di inversione di tendenza, basta che qualcuno si metta seriamente con buona volontà intorno a un tavolo e dica d'accordo, da dove cominciamo? Cosa facciamo? Stabiliamo delle priorità, costruiamo insieme un futuro per questa benedetta Italia che ne ha tanto bisogno. Grazie, grazie ancora al nostro Pierluigi Albetti, buon lavoro. Grazie mille, grazie dell'invito e grazie ancora per tutto quello che fate perché anche il vostro servizio è prezioso. Speriamo, speriamo, una piccola goccia. Va benissimo. E con voi, cari amici, l'appuntamento naturalmente è per domani, arriva il commercialista, adesso la linea a Valtigi, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.